10 secondi ok 5 4 3 2 1 vai 20 destra 2 in sinistra 2 sinistra 3 meno meno non tagliare 50 e destra 2 meno 60 tranquilla vai tornate sinistro 30 e tornate destro 50 e sfiora a destra 2 volte 20 sfiora a destra 2 volte per tornante sinistro cambio strata 60 sale e tornate e tornate destro 10 entrata destra 30 e inversione sinistra 30 30 e inversione destra 50 tranquilla 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 e destra 50 e destra 3 non tagliare 10 destra 3 non tagliare per sinistra 2 sinistra 2 e attenzione inversione destra tranquilla niente non gira non gira manco per caso vai tranquilla tranquilla sinistra 3 tranquilla ok vai sinistra 4 sinistra 4 80 destra 4 30 chicane destra 4 30 e chicane entrata sinistra 100 destra 3 destra 3 ripeto destra 3 in sinistra 3 in destra 4 in sinistra 4 in destra 4 30 e fai attenzione fai attenzione sinistra 3 e tieni sinistra in sinistra 4 60 e sfiora sinistra 50 e fai attenzione destra 3 30 destra 3 ripeto destra 3 30 tranquilla 30 subito stretto entra sinistra uscita destra 10 destra 3 e 10 e destra 4 in sinistra 4 80 si e finistra 5 in sinistra 4 tieni 50 50 e sfiora destra in sinistra 4 più 30 e destra 5 per sfiora destra in sinistra 4 in due tempi 30 sinistra 4 in due tempi 30 destra 4 4 destra 4 per sinistra 4 più per sfiora sinistra sinistra 4 più questa per sfiora sinistra per destra 3 ripeto per destra 3 in sinistra 3 più tieni non tagliare ballone interno 10 e sfiora destra 2 volte per sfiora sinistra in fai attenzione destra 2 gira ripeto fai attenzione destra 2 gira 10 sinistra 3 50 sinistra 4 più sinistra 4 più ripeto sinistra 4 più in destra 3 per sinistra 3 tieni in destra 5 10 e sinistra 5 tieni si sfiora destra in sfiora destra in destra 3 per sinistra 3 e fai attenzione stai sinistra in destra 2 salta in sinistra 1 sporca in destra 1 sub balla 10 sinistra 5 per destra 5 e fai attenzione chicane entrata sinistra 10 destra 3 scivola 3 in sfiora sinistra per sinistra 4 in destra 3 occhio scivola tranquilla sinistra 3 20 e sinistra 4 meno e fai attenzione sinistra 4 meno in destra 3 scivola sinistra 4 in destra 4 in sinistra 3 in due tempi 2 in destra 4 in sinistra 4 per destra 5 in sfiora sinistra in destra 4 più e al rosso stai attenzione sinistra 3 stai a sinistra stretto 10 e al ponte destra 3 scivola tieni 80 vai che è un motoscapo vai vai tranquillo e ora sinistra 10 sinistra 3 in destra 3 lunga lunga tieni sinistra lunga lunga tieni si questa è quella bastarda in sinistra lunga chiude poco sinistra 3 lunga chiude poco 100 e al piro sinistra 3 tieni ripeto al piro sinistra 3 tieni per destra 4 per destra 3 meno scivola e sinistra 4 per sinistra 4 per sinistra 4 lunga lunga in destra 4 per sinistra 3 sinistra 3 in destra 3 più scivola 20 e tieni sinistra stacca in destra 1 40 tossate in sinistra 2 scivola sinistra 2 scivola in tieni sinistra in destra 1 palla tranquilla non è scappato ok ho finito 62 10 2 corrija 2 20 0 1 1